ciao a tutti ragazzi oggi andremo a fare un video sul roblox che sono nano ed è bellissimo però ovviamente in prima persona io amo essere in prima persona allora intanto volevo dirvi tipo è vetro questo e infatti mi sembra strano vi volevo dire che non ho fatto più video si sempre per la scuola e perché la scuola ormai si sa com'è però pure perché non è che stavo bene è stato un periodo dove veniva la febbre se ne andava e dopo che se ne andata dopo un po' di giorni riveniva la ricaduta quindi praticamente non ho fatto più video anche perché non è che è proprio un periodo di influenza ecco apposta però comunque oggi era una giornata perfetta per fare un video ecco l'ho detto è una giornata perfetta certo spero di fare altri video se posso certo questo sì quindi infatti accetta e da un po' che non entro su roblox accettiamo certo un nuovo amico e mi fa molto contento allora voi dovete indovinare cosa faremo in questo video guarda io non dico niente no dirò qualche cosa però io già prendo il primo oggetto e voi capirete subito eh uno due che cosa ho preso e dove andremo i signori ah ok signore che c'è qualche casa ok e andremo a rubare entriamo la nostra maietà no 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 dai ma la brutta proprio la cosa più brutta in questo gioco che non solo ti cacciano di casa che non puoi più entrare avvicinarti non puoi manco muerta almeno non puoi e ti uccide sparte questo è chiuso e però c'è questa qua accanto quindi siccome c'è sta casa vicina direi di entrare certo è molto è molto comodo sarà già aperta però comunque la prima se n'è andata ma oggi che sta succedendo scusate oggi comunque volevo dire che non è un gioco che staremo in tutto il video questo sì perché brocaven quando ero più piccolo la prima volta che entravo in questo gioco lo chiamavo brocaven però brocaven allora perché vorrei entrare in un altro gioco horror che noi abbiamo già giocato tanto tempo fa solo se lo trovo infatti non è che questo qua sarebbe la porta ah no non è una porta in ingresso si sembra garage ok allora c'è certo comunque non è che sta salendo quella oh non si ha ah prima non si apriva scrivete nei commenti e sto già ah ecco qua scrivete nei commenti che gioco su roblox vuolete che faccio ma non per forza su roblox ve lo dico già da ora non è un problema ma può essere pure un altro un altro gioco mini world che vuole questa da me che vuole questa mi fa paura eh mi fa paura questa eh non è che ok io metterei una macchina qua non per altro perché così posso scappare prendiamo cosa prendiamo ragazzi prendiamo questa ok questa è bella a voglia questa è è una gran macchina bella si apre immaginate se arriva qua mamma vai che è ristorto però comunque so guidare è una bellezza io mamma da che sono bravo ragazzi sono troppo bravo ok poi volevo dire pure che dal dall'influenza che ho avuto mi è rimasto ah si è aperta la porta è aperta la porta dall'influenza che ho avuto aiuto aiuto ragazzi dall'influenza che ho avuto e mi è rimasta ancora la tosse si aiuto ragazzi ragazzi a quella scimmia che ha creato un'altra scimmia ma perché allora avevo fatto un video ragazzi questa mossa calda perché in questi tempi stare al freddo non è che fa proprio bene e voglio dire che ho fatto un video dove c'era alexa che parlava dico la verità pure questo video volevo che parlava alexa solo che alexa la dovevo mettere in corrente corrente doveva attaccarla alla corrente in quest'altra stanza e poi si doveva collegare a internet e alexa non è un dispositivo che si collega appena la mette in corrente subito è un dispositivo che si mette subito con internet cioè si collega subito ci vuole i suoi minuti e qua c'è la cosa prendi 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 idiot ah questo elimina elimina così elimina ciao ciao questo è stato eliminato qua però comunque i soldi che li prendiamo noi li gacciamo da da delle nostre mani però comunque ce l'abbiamo ora siamo storti questa mi sta un po questa mi sta guardando un pochino male e sta pure ballando mi pare quindi sai facciamo ragazzi facciamo una bella cosa non ho fatto una cosa intelligente ok io ho fatto credere no 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 io ho fatto credere un bel niente facciamo prendiamo una macchina vai ragazzi facciamo chi è ma che è una pistola quella no ragazzi scusate io me ne vado facciamo facciamo vediamo un pochino quello che c'è nella strada ciao ah dai aiuto ragazzi no sembra che sono morto perché è entrata quella col fucile è entrata quella col fucile non mi poteva sparare penso in macchina ma scusa vi dico la verità secondo me questa qua sa che noi andiamo a rubare che vi dico che sto facciamo finta mi ha visto mentre rubavo nelle case e questo qua dice ora questa qua si vuole avvicinare a me io no no mi vuoi avvicinare no 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 me ne vado guarda che bello guarda che belle montagne alberi mmm e mentre siamo sopra la macchina non funziona e quindi entriamo e ma c'è questa c'è questa no però mi ha voluto sparare e ora io entro guai no 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 sono io sono un tipo di Putin quindi entriamo muoviti 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 e non basta muoviti muoviti che schifo che schifo di gioco e io li faccio apposta no guarda a me mi devono sfidare perché se mi sfidano guarda aspetta che prendo i soldi per fargli vedere aspettate ok in mano li prendo in mano gliele faccio vedere mi deve cacciare da questa casa ma mi deve vedere che io gli ho preso i soldi apri come si apre non si apre ecco dove sei dove sei soldi presi soldi presi come si dice aiuto ragazzi venite i soldi l'ho presi comunque ragazzi eh scusa comunque ragazzi ora andiamo a giocare in un'altra mappa mi sembra molto ci sono questi qua ci sono questi qua che sono arrabbiati con la pistola vogliono uccidere a tutti allora ragazzi siamo entrati qua che sarebbe un parkour forse però horror allerta ok ora abbiamo fatto tutto si è accesa infatti la luce rossa e continuiamo allora andiamo che agli armadietti come in america per esempio vediamo allora che si deve fare non è che parte qualcuno da qua no 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 che bella quella skin comunque ragazzi ma si può prendere questa cosa no e forse non si può prendere quella cosa verde che sarebbe fogna non lo so che può essere no aiuto 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 ragazzi questo mi prende questo mi prende questo qua mi prende no perché salto salto ma sempre quella è la velocità non è che di qua non mi può prendere ragazzi no dai ho le scale queste però la bocca ancora si muove quindi non mi avvicino è caduto dai è caduto però non mi muovo tanto bene in questo gioco un pochino lagga quindi allora dai andiamo qua non penso che viene è grosso ok facciamo qua andiamo andiamo e sono caduto perché ogni volta il secondo il primo il secondo o il terzo salto che si fa su roblox così funziona io ho saltato e non mi ha saltato per esempio ora vedete la vita è brutta soprattutto quando succede questo vai andiamo piano piano vai non ci mangia nessuno in un certo modo non ci mangia saltiamo qua stavo proprio per cadere infatti vedete così e devo pure controllare se è salto perché comunque c'è un testimone che dice ho saltato ma ciao ma che bello comunque questo gioco è proprio bello mi piace 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 molto però lagga un po' quindi gli do questo gioco voto commento su tiktok sì perché vi volevo dire pure ora ho visto meno male che io faccio pure video su tiktok quindi che fate non andate a iscrivervi eh sì mi sembra che mi chiamo che è successo perché è un po' mi sembra che mi chiamo ti vuoi muovere tu ti vuoi muovere che mi chiamo Ettore Games 14 15 non mi ricordo comunque vi devo mettere una foto su youtube sì perché ora posso mettere pure le foto non so perché forse è un nuovo aggiornamento però che succede dovrebbe aprire la porta qua è quello è pulsante no eh sì perché comunque e poi come fa richiudersi sola cioè dopo un certo ma comunque sì 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 scusate si è aperta la porta sì perché comunque ragazzi vi dico quale ci sono tanti sogni nel mio cassetto però un sogno che proprio voglio che si realizza è è proprio di creare un un gioco su Roblox sì ma era un sogno davvero aiuto sono morto è proprio che si crea un gioco su Roblox perché io una volta l'ho creato ed era una persona così contenta non potete pensare poi ho scoperto che l'ho creato solo per me eh sì quindi aiuto ragazzi mi sa che questa cosa che questo led che mi ha preso a me non è che era proprio buono allora mettiamoci sempre nell'angolo ragazzi che è successo mi sa che ho preso no 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 è più difficile questo è più difficile ok ragazzi ok fatto passiamo questo che dovrebbe essere più facile qua prendiamoci un attimo e ok siamo passati dovremmo eee cioè è trasparente quel ferretto e quindi come fa a tenersi aspetta vai ah così e e m'ha rotto si è rotto ahhh questo video l'ha fatto pure aion ora ve lo ricordo i legnetti si rompono dopo un poco aiuto ragazzi dovremmo passare non lo so aspetta non ci può fare qua direttamente dai veloce 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 si però non mi fa saltare veloce e io dico veloce non mi fa saltare veloce guarda almeno però tu non sei Gesù e che è quello in notte anzi avete visto che c'era uno che camminava però non era uno che voleva state con noi perché ci vuole bene perché sicuramente però comunque muoviamoci ooooh ooooh che bravi che siamo dopo tre anni chi è questo perché fa così aiuto ragazzi aiuto 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 chi è questo ma perché sono tutti brutti mostri eh abbiamo un cioccolatino come si apre no ci deve essere qualche pulsante allora ragazzi mi spiace ci deve essere che aspettate mi prende lo stesso qua qua non mi prende e qua mi prende e che deve fare questa aah forse questa deve uccidere quella con la pistola dovrebbe uccidere sì 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 così è ragazzi andiamo 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 che grossa però è veloce ragazzi andiamo però solo che a me non mi fa prendere lo rissa eh eh leggi un po' questo libro eh leggi un po' questo libro eh hai un libro in mano eh che fai non lo leggi scusate è vero ho detto prima che ho la tosse quindi purtroppo dai dai come si prende come si prende non si prende ragazzi non si prende il libro il come si prende c'è forse qualche cosa all'inizio vai c'è qualche cosa forse che si dovrebbe prendere all'inizio guarda io sto col dubbio perché non ho mai giocato questo gioco da questo gioco devo dire la verità forse così aspettate 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 mi la fa prendere mi ha preso ragazzi continuiamo in un altro momento perché ormai se continuiamo vedi questo gioco mi è comparso nell'home e quindi non stavo vedendo stavo vedendo comunque nell'home di questo di roblox e quindi apposta e apposta oh aspettate aspettate posso mettermi qua io ragazzi no ma perché ma no ma dai ma perché vabbè ragazzi facciamo così perché comunque abbiamo manco tempo per ucciderla questo quindi noi ci vediamo in un nuovo prossimo video spero di continuare pure questo gioco ma sicuramente sì e ci vediamo in un nuovo prossimo video ciao ragazzi ciao 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 Grazie.